80 anni e non sentirli? Non lo so se non sentirli o sentirli, ma certo lo spirito ancora credo buono, quindi andiamo avanti, però purtroppo gli acciacchi, tanti acciacchi ci sono, non nascondiavoli. 80 candeline per il conte Onofrio, Spagnoletti Zeuli, una lunga storia fatta di terra, quella pugliese, di passione e tanto lavoro che ha portato il marchio Spagnoletti Zeuli a diventare un simbolo del territorio andriese e non solo, una vita dedicata alla qualità che i vitigni e gli olivi possono offrire, ma prima di tutto questo un amore sconfinato per il sud e la sua terra, il conte Spagnoletti Zeuli ripercorre così alcune tappe della storia della sua famiglia. La mia famiglia è stata sempre legatissima ad Andria ed è stata sempre legatissima alla terra, l'unica cosa che aveva era la terra, la terra, la terra, quindi allevatori, cerealicoltori, viticoltori, olivicoltori e poi devo dire che la mia famiglia ha dato tanto ad Andria, forse certe volte si dimentica, pensate alla riforma di Mussolini, l'opera nazionale combattente che sono andati via tantissimi ettari di terra, la riforma fondiaria del 50 mi pare, Fanfani Segni, che altra via abbiamo dato altra terra, quindi credo che la famiglia Spagnoletti ad Andria ha dato tanto, ha dato tanto, ha dato tanto come lavoro. Non solo imprenditore agricolo, il conte Spagnoletti Zeuli è stato anche onorevole tra il 1994 e il 1996, proprio lui, l'uomo del sud pronto a battersi per la sua gente che in quella circostanza lo votò con fiducia, tante le battaglie che lo hanno visto in prima fila, non ultima quella nata con il movimento dei gilet arancioni per ottenere contributi in seguito alle gelate del 2018 che misero in ginocchio il comparto agricolo del nord barese. Approfitto proprio di questo bellissimo incontro, che ringrazio moltissimo Telesveva, direttore Marmo, per dire, volevo dirlo, che mi pare che siamo arrivati alla fine e i gilet arancioni hanno chiuso il cerchio, perché avemmo lo sgravio dei contributi a suo tempo, i frantoiani per la prima volta hanno avuto dei soldi, ci battemmo per la Xinella nelle Cese, dei famosi 300 milioni ne abbiamo parlato e credo che stiano funzionando e ultima cosa, finalmente ci stanno per pagare. Il conte Spagnoletti Zeuli è sicuro, questa terra può e deve dare ancora tanto, ma bisogna saper cogliere le opportunità. Forse non l'abbiamo mai capito abbastanza, abbiamo un territorio, un ambiente bellissimo che andrebbe sfruttato e mi auguro che parta un turismo fortissimo, che l'Italia stia ripartendo dopo questo maledetto Covid e quindi mi auguro che venga riconosciuto questo territorio, che ancora non è sufficientemente riconosciuto per le sue produzioni eccezionali, per la sua qualità e la bellezza di questo olivo che quando viene la gente rimane veramente incantata, l'olivo, l'olivo è la nostra coratina. La data del suo compleanno, 23 settembre, è diventata anche un marchio di una bottiglia di vino. Ma a me il 23 settembre è un numero, è anche abbastanza, 23 settembre, è una bella immagine, una bella, non so, suona bene, ecco, poi è San Pio, ricordiamoci, e poi di altri personaggi molto importanti il 23 settembre, quindi era un gioco che ho fatto io questa bottiglia, perché è una cosa che ho voluto fare io, ho fatto tipo gli amaroni, tipo questo, e quindi mi ha divertito così. Nel futuro del conte spagnoletti Zeuli c'è ancora tanto lavoro, impossibile per lui pensare ad una vita senza la sua creatura più bella. Guai a fermarsi, mio nonno diceva in motu vita, quindi pensate il motu di allora, allora con i tempi di allora, con i tempi di oggi, con i cavalli, tutte le lontananze, eccetera. Però voglio dire che, guai, se non facessi questo che cosa potrei fare? Non lo so, mi annoierei dalla mattina alla sera, quindi vedete che anche oggi sono qui a vedere con i miei ragazzi come funzionano le cose e come vanno. Ancora tanti auguri. Grazie, grazie a tutta Andrea, grazie a voi, grazie ad Andrea, io ad Andrea voglio bene e quindi grazie a tutti quelli che mi conoscono.